Bing X tutorial ufficiale in italiano by Cryptovalute Italia tutorial all'exchange che ci permette di acquistare e vendere criptovalute che ci permette di tradare attraverso il trading spot derivati futures che ci permette di sfruttare il copy trading dei bot di trading a griglia e molto molto altro Benvenuti su Cryptovalute Italia, benvenuti in un nuovo video come sempre prima di andare avanti vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi contenuti come questo e quindi nuove piattaforme portate all'interno del canale all'interno di questo video tra le altre cose vi darò la possibilità di poter entrare a far parte di un bonus che Bing X ha dedicato interamente agli abbonati del nostro canale che vi permetterà di portarvi a casa più o meno 100 USDT quindi 100 dollari in bonus in cripto quindi seguite con attenzione questo video entriamo subito nel vivo di questo tutorial e la prima cosa che dobbiamo fare è registrarci a Bing X tramite il link referral il nostro codice bonus che troverete in descrizione sotto a questo video vi ricordo che vi inseriremo aggiornato sempre il miglior link il miglior bonus in assoluto abbiamo la possibilità di darvi questo bonus fino a 100 dollari essenzialmente quello che dovete fare è registrarvi all'interno di Bing X una volta effettuata la registrazione quindi inserite i vostri dati classica registrazione all'interno di piattaforme cripto che abbiamo già visto anche in altri video una volta fatto questo quello che dovete fare è depositare 500 dollari all'interno di Bing X fino a 500 perché voi andrete a guadagnare il 20% di quello che depositate quindi non siete obbligati a depositare 500 dollari attenzione potreste semplicemente depositare 100 dollari e andare a guadagnare il 20% che corrisponde a 20 dollari ma naturalmente visto questo bonus io generalmente quello che faccio personalmente è prendermi sempre il massimo quindi io ho depositato 500 dollari e ottenuto un bonus di 100 dollari grazie appunto al codice referral che abbiamo messo a disposizione in descrizione per poter sbloccare il bonus poi vi basterà semplicemente effettuare un trade quindi tradare un qualsiasi importo e quindi da questo punto di vista in linea generale in 5 giorni riceverete il bonus quindi ripeto deposito di 500 una volta io vi dico 500 poi fate quello che preferite voi una volta fatto questo tradate qualsiasi importo quindi effettuate un trade attendete 5 giorni e avete il vostro bonus di 100 dollari come vi ho sempre abituato andiamo per ordine passo passo e andiamo a scoprire le varie voci presenti all'interno di bing x questa è la piattaforma e l'home page che si presenta naturalmente con un po tutti i dettagli i grafici naturalmente di alcuni di alcune coppie come bitcoin e usd e qui ci spiega naturalmente un po tutto quello che possiamo fare ma adesso lo andiamo a vedere assieme non vi preoccupate iniziamo naturalmente dall'acquistare criptovalute che è una cosa che interessa a molti di voi io qui non posso acquistare direttamente attraverso il servizio interno di bing x ma posso sfruttare i servizi di terze parti faccio un esempio banale se io volessi comprare 1000 dollari di usdt praticamente posso usare moon pay che ci dà 990 usdt quindi naturalmente c'è sempre una fee banks a 980 adb cash a 961 questi da questi dati nel tempo possono variare quindi state molto attenti che potete ricontrollare fin quando non acquistate al prezzo migliore quindi in questo caso specifico io vado ad acquistare con servizi di terze parti o anche il servizio peer to peer in questo caso specifico posso per ora solo acquistare vendere tra poco sarà disponibile ok quindi voglio per esempio comprare 10 usd di usdt e ricevo in cambio 10,52 ok questo per adesso è quello che posso fare acquistare a zero commissioni oppure posso andare nel flessibile e comprare da altri utenti per esempio banale c'è questo eric 97 io posso decidere anche vedete qui un po come tutte le altre piattaforme lui sta vendendo un usdt a un dollare e 10 ok questo è quanto può vendere al massimo 801 disponibilità e sarebbe questa qui ok e poi questi sono i metodi di pagamento che possiamo utilizzare per esempio c'è anche il sepa istantaneo quindi posso usare diverse cose interessanti il sepa istantaneo a molti di voi probabilmente interessa quindi io clicco su acquista vedete vado a selezionare per esempio che voglio comprare 800 dollari in cambio ricevo 727 e posso acquistare sempre usdt a zero commissioni ok quindi questi sono i due modi che io posso utilizzare per acquistare criptovalute ma naturalmente il metodo migliore in assoluto è da un altro wallet inviare i nostri fondi al bing x quindi se volete prendere il bonus vi straconsiglio di depositare da un altro wallet dove avete i vostri fondi i fondi all'interno appunto di bing x quindi esempio avete su trust wallet su metamask su binance su crypto.com i vostri usdt li inviate a bing x così andate a sbloccare il bonus nella sezione mercati naturalmente possiamo andare a visionare un po tutti quelli che sono attualmente gli scambi le coppie sia per quanto riguarda lo spot sia per quanto riguarda i futures nuova valuta tutte le valute eccetera eccetera i preferiti quindi comunque semplicemente abbiamo un recap di quello che sta accadendo niente di trascendentale non entro troppo nel dettaglio perché quello che ci interessa naturalmente è il trading quindi entriamo subito nel mondo del trading anzi prima di entrare nel mondo del trading vi faccio vedere naturalmente come possiamo depositare quello che noi dobbiamo fare per poter depositare allora innanzitutto cliccando qui sul portafoglio ho la possibilità di visionare i miei asset quindi tutto quello che ho all'interno del mio wallet lo storico non ve lo faccio vedere perché è simile a tanti altri exchange lo storico degli asset quindi tutti quelli che sono stati i movimenti e qui ho tre sezioni molto importante deposito prelievo e trasferimento con deposito naturalmente posso depositare i miei fondi quindi se voglio prendere il bonus devo obbligatoriamente andare da qui prelievo posso prelevare quindi attenzione quando io prelevo devo prelevare verso altri exchange verso altri wallet ok cosa molto importante e trasferimento posso naturalmente muovermi tra il conto spot il conto futures e così via iniziamo vedendo appunto il deposito io adesso clicco su deposito ho letto ed accetto ok clicco su conferma e praticamente che cosa devo fare immaginiamo di voler depositare usdt proprio per ottenere il bonus vado a selezionare innanzitutto quello di mio interesse in questo caso specifico usdt quindi la cripto di mio interesse e vado a selezionare la rete per esempio abbiamo tron ok trc 20 che sappiamo benissimo essere molto economica naturalmente dipende dove noi abbiamo i nostri usdt quindi cerchiamo di capire quale di queste reti è compatibile se sono tutte compatibili tron è quella meno costosa vado quindi a selezionare tron e quello che succede praticamente che in primis devo avere un deposito minimo di un dollaro ok e semplicemente vado nel mio altro wallet a copiare questo indirizzo qui ok vado a selezionare tron e invio i miei usdt e praticamente me li ritrovo poi all'interno della sezione i miei asset vi ricordo che dopo che avete depositato dovete fare un trade ma tra poco vi faccio vedere come si fa per poter sbloccare il bonus ok quindi come prima cosa dovete fare questo naturalmente al di là del bonus iniziale questo serve anche per farvi capire come muovervi all'interno del conto di bing x se invece voglio prelevare posso fare un prelievo esterno o un trasferimento interno in questo caso specifico io posso prelevare i miei usdt vado a selezionare la rete di mio interesse e qui mi dice anche quelle che sono le commissioni quindi per quanto riguarda le commissioni molto interessante perché ce le dice immediatamente ok quindi per esempio vedete rc20 ci dice 6 usdt però già queste costano molto meno quindi se io seleziono di rc20 pago 0,8 quindi veramente poco 74 centesimi di euro qui devo inserire l'indirizzo del wallet qui devo inserire quanto voglio prelevare e poi naturalmente clicco su prelievo fine molto molto semplice se vado invece nella sezione trasferimento ecco che io posso muovere i miei fondi internamente quindi per esempio io ho i fondi dell'account oppure i fondi futures ok quindi quello che vado a fare in questo caso specifico è per esempio muovere da questo conto che in questo momento 1,43 usdt ok posso scegliere di muoverli tutti all'interno della sezione futures standard oppure i perpetui ok quindi scelgo io dove muoverli clicco su trasferimento è gratuito ed è molto veloce quindi io posso muovermi tra essenzialmente lo spot ok e i futures proprio perché decido di andare a trattare dove meglio voglio dove meglio mi conviene dove preferisco dove comunque più dimestichezza detto questo entriamo nel magico mondo del trading di criptovalute di bing x iniziamo subito dal trading spot il classico trading abbiamo due opportunità la sezione converti che io non vi consiglio semplicemente perché nella sezione trading potete andare a trattare ai prezzi che preferite voi ma se volete fare naturalmente una conversione veloce andate a scegliere per esempio in questo caso usdt 1,43 in bitcoin ecco che io mi ritrovo questo scambio clicco su converti e tanti saluti se invece voglio naturalmente andare a effettuare uno scambio un po più professionale dove naturalmente vado ad abbattere quello che lo spread vado a abbattere le commissioni rispetto alle classiche sezioni converti naturalmente vado nel trading spot in questo caso come sempre io avrò il mio grafico con tutti gli strumenti che ormai abbiamo già visto tante volte all'interno del canale non entro nel dettaglio perché potete recuperare la playlist che abbiamo realizzato quindi la trovate nella sezione playlist del canale trading per principianti ok andatela a vedere perché realmente imparate a fare trading in maniera semplice non dovete essere dei trader ma vi serve soprattutto quando dovete convertire le vostre cripto io vedo tante volte le persone andare a convertire nelle app e spendere un sacco di soldi in commissioni quando in realtà potrebbero farlo velocemente attraverso queste sezioni grazie al nostro video niente di difficile qui ho la possibilità di vedere la cronologia degli ordini di aprire nuovi ordini e così via questo è un account nuovo che sto appunto utilizzando per questo video ok quindi non ordini eccetera eccetera e poi naturalmente come sempre posso andare a trattare posso andare ad acquistare attraverso quindi acquistare vendita attraverso i classici ordini a mercato quindi semplicemente l'ordine attuale che io quindi il prezzo attuale che io vado a piazzare l'ordine e quindi vado naturalmente a vado a selezionare in primis i fondi dell'account che sono quelli di mio interesse in questo caso spot vedete se io voglio andare qua ho la coppia bitcoin usd quindi io qui posso andare a selezionare la coppia a mercato vado a comprare al prezzo di mercato limite invece ho la possibilità di andare a scegliere il prezzo io quindi io voglio comprare a un prezzo ben specifico ed è quello che vi dicevo io che vi conviene perché se per esempio voi in questo momento bitcoin vale 18 183.70 ok però secondo voi a fine giornata tra un'ora tra due ore bitcoin potrebbe valere 18.100 invece di comprare a 83 dollari in più comprate a 18.100 che è il prezzo che vi interessa e lo potete fare naturalmente qui all'interno di questa sezione quindi andate a costare il prezzo e tanti saluti già ve l'ho spiegato come funziona il limite e poi ho altre opportunità non entro troppo nel dettaglio magari fatemi sapere nei commenti se volete un video dedicato al trading di bing x un po più specifico magari il trading spot un video dedicato ai futures fatemelo sapere nei commenti tra l'altro dimenticavo di ricordarvi che abbiamo lanciato il nostro canale telegram dove troverete notizie relative al mondo delle criptovalute di criptovalute italia nuovi video e quant'altro quindi iscrivetevi trovate il link in descrizione naturalmente oltre il trading classico spot o i futures o i futures standard quindi semplici e facili da usare oppure i perpetui adatto ai trader più esperti anche in questo caso fatemi sapere se volete un tutorial al riguardo ora quello che vi posso far vedere che naturalmente anche in questo caso abbiamo il classico grafico posso andare a selezionare le mie coppie posso andare a selezionare naturalmente in questo caso i fondi come potete vedere ho 200 usdt a disposizione per poter andare a trattare magari li useremo per fare un tutorial insieme e poi abbiamo i futures perpetui quindi vi faccio vedere la schermata anche in questo caso specifico molto simile ok abbiamo anche il classico calcolatore come potete vedere anche qui posso fare gli ordini a limiti a mercato attivazione trailing stop cose che abbiamo già spiegato nelle nostre playlist non entro troppo nel dettaglio quindi diciamo che a 360 gradi posso andare a fare anche il classico trading con leva e così via molto molto interessante vedete io qua in alto vado a impostare la leva ho una leva fino a 150 per sia nelle posizioni long sia nelle posizioni short poi abbiamo il copy trading il copy trading che abbiamo già visto alcune volte all'interno del canale quindi vi ho spiegato un po come funziona anche in questo caso con il copy trading quello che io posso fare è selezionare un trader e qui come potete vedere in prima pagina generalmente sono trader top trader dove io essenzialmente vado a copiare le operazioni che loro fanno tutto automatico quindi io copio quello che loro fanno in automatico attraverso naturalmente la piattaforma di bing x e senza fare niente vado a trattare anche da utente in esperto perché ci saranno utenti esperti che faranno tutto questo per me quindi io posso naturalmente andare a scegliere il trader andando ad analizzare quello che è il ROI quante persone stanno imitando questo trader il fattore di rischio che naturalmente uno è un fattore di rischio più basso qui è un fattore di rischio più alto il 6 quindi come potete vedere infatti quelli più bassi sono trader conservativi questi sono i trader di tendenza poi abbiamo dei nuovi trader tutti i trader ok le classifiche comprete il livello dell'account realmente abbiamo talmente tanti dati a disposizione che possiamo scegliere nel miglior modo possibile anche in questo caso se volete vedere un video dedicato al copy trading di bing x fatemelo sapere perché lo andremo a realizzare ok quindi magari su questa piattaforma che ci piace molto andiamo a realizzare dei video specifici così a seconda di quello che vi interessa vi andate a vedere il video lasciate un commento qui in basso abbiamo anche l'opportunità di sfruttare il grid trading che vi ricordo se volete entrare nel dettaglio vi basterà cliccare qui sul tutorial griglia vi faccio vedere e viene spiegato tutto dettagliatamente io non voglio entrare troppo nel dettaglio perché non voglio rendere troppo tecnico questo video perché vi voglio mostrare tutto quello che possiamo fare con la piattaforma essenzialmente però io posso andare a effettuare appunto questo questo grid trading attraverso i future spot e spot infiniti infiniti ok quindi con arbitraggio non stop con limiti massimi essenzialmente quello che va a fare è acquistare a prezzi bassi e rivendere a prezzi alti in automatico e quindi io se per esempio clicco su crea vedete ho la possibilità o di farlo in automatico quindi scelgo la coppia di mio interesse ok e poi vado a scegliere quanto investo clicco su crea e tanti saluti oppure su un manuale in questo caso specifico vado a impostare io il numero delle griglie il prezzo minimo il prezzo massimo naturalmente questo se siete utenti esperti non c'è bisogno che vi spiego come naturalmente si va ad attuare automatico è un po più per utenti in esperti ma prima prima come sempre vi ricordo io non sono un consulente finanziario non vi voglio dare consigli finanziari non vi voglio spingere a effettuare operazioni che poi magari possono anche non per forza portarvi a guadagno ok anche se qui ci fa vedere che cosa sta accadendo quindi guadagni cosa fondamentale andatevi a leggere un po tutta questa queste indicazioni sono importantissime perché così riuscite a capire bene come funziona il grid trading magari ci faremo un tutorial in futuro poi attenzione perché i bonus non finiscono qui infatti se io clicco su ricompense per i nuovi utenti ho la possibilità di guadagnare fino a 5125 usd di al di là di quello che vi ho già mostrato precedentemente qui ci dice che possiamo depositare per vincere fino a 5000 usd di tra l'altro voi potete unire il deposito che vi ho detto naturalmente di fare attraversi il bonus nostro insieme a questi altri bonus qui ok quindi quello che potete fare cliccare su iscriviti per poter andare a ottenere questi vari bonus e qui ci fa vedere naturalmente come possiamo ottenere i vari bonus solamente troppo nel dettaglio perché possono variare nel corso del tempo quindi voi da questo punto di vista andate a scegliere i bonus che più vi aggradano e cercate naturalmente di ottenerli oltre il bonus che vi ho messo a disposizione direttamente io con questo video poi molto importante se vado nella sezione hub dei premi ho la possibilità di sbloccare altri premi per esempio io ho effettuato l'accesso e ho ricevuto questo bonus di 10 usdt e attenzione se effetto naturalmente il check in per altri tre giorni posso ricevere altre mystery box ok quindi come potete vedere io qui ho le varie ricompense e qui ho anche i compiti ok quindi deposito cumulativo 200 usdt ricevo due usdt bonus finali e leva 5 per idem se deposito 303 e così via quindi da questo punto di vista ripeto potete comunque unire il tutto al bonus iniziale che vi avevo già mostrato e poi naturalmente qui ci dice segui i nostri canali per sbloccare altri bonus perché ogni tanto naturalmente fanno dei contest dei giveaway quindi vi consiglio naturalmente di seguire bing x da questo punto di vista attenzione molto importante abbiamo sia il programma di affiliazione la possibilità di invitare gli amici quindi se vi interessa invitare i vostri amici lo potete fare qui non entro troppo nel dettaglio abbiamo poi la possibilità di entrare nel centro promozioni per vedere se ci sono eventuali promo la community di bing x scoprire naturalmente qualcosa su di loro se siete interessati a lavorare con bing x ecco che qui c'è la sezione lavora con noi e poi naturalmente molto molto importante il 100% prova delle riserve ok quindi abbiamo la possibilità di poter vedere la prova delle riserve di bing x infatti bing x garantisce la salvaguardia dei fondi dei clienti quali sono garantiti al 100% dei fondi di riserva i nostri dati finanziari sono stati verificati da revisori autorevoli pubblicheremo il nostro albero mercolo ogni settimana di conseguenza naturalmente quello che succede è che voi potete andare a visionare qui la prova delle riserve che in questo caso specifico dipende da quello che avete voi nel conto questo nuovo conto quindi non abbiamo fondi ma è molto importante perché così siete tranquilli che i vostri fondi siano safe siano al sicuro bene non c'è più nient'altro da dire per quanto riguarda quest'altro tutorial se non sbloccate questo bonus di benvenuto iniziate a utilizzare la piattaforma a noi piace molto la porteremo spesso all'interno del canale probabilmente quindi faremo altri tutorial e quindi di conseguenza magari una piattaforma nel corso dei prossimi mesi si evolverà sempre di più è importante entrare in questi ecosistemi anche per diversificare non detenete mai i vostri fondi in un unico exchange è un errore da non fare e questa piattaforma a noi piace molto se il video vi è piaciuto lasciate un bel like al video e ricordatevi se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo qui da criptovalutitalia è tutto ci vediamo in un prossimo video grazie per l'attenzione ciao e a presto